Grazie a tutti. Del gas per sostituire 29 miliardi di metri cubi? Non ci sono. Ne troviamo 10, 15. Sì, già non lo dobbiamo consumare. Facciamo a meno. Insomma, se non lo usiamo più facciamo ancora meglio. Quindi cosa vuol dire? Che le aziende... Ma poi chi è che decide? Guardi, ha fatto vedere delle immagini all'inizio drammatiche di gente che non ce la fa pagare. I consumi che vediamo noi non stanno calando granché. L'industria è calata di un 8% a marzo. Cioè qua occorre distruzione di domande. I mercati ce lo stanno chiedendo da circa 6 mesi. Distruzione di domande? Che vuol dire riduzione. Molte imprese hanno già chiuso i forni. Quelli che fanno ceramica, vetro... Perché si parla di un paese che muore? Una decrescita poco felice. Di fronte a queste due cose, cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli con il termosifone acceso? Anzi, ormai l'aria condizionata è accesa tutta l'estate. Io la metterei in questi termini. E lei cosa si risponde su questo? Preferisce la pace o il condizionatore d'aria acceso? Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati su Cento Giorni da Leoni. È giovedì, 19 maggio, sulle 13.04. E questo pomeriggio siamo in compagnia, c'è il grandissimo ritorno, di Paolo Borgognone. Ciao Paolo, mi sei mancato. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Ciao Riccardo, anche voi mi siete mancati. Pubblico e naturalmente conduttore. Assolutamente. Com'è passato questa settimana che non ci siamo visti? L'ho passata lavorando, sta per uscire il mio nuovo libro e di fatto ho lavorato assiduamente per completare questa pubblicazione. Sto lavorando a due o tre cose, due o tre libri e insomma è fatica. Una macchina da libri, sai. Ho perso il conto, 11-12, non ricordo più. Complimenti Paolo. Grazie. Grande passione, talento, ma anche tante ore immagino che impieghi a questa tua attività. Allora iniziamo subito con la notizia, non è del giorno, è dell'anno ormai, è l'ipocrisia dei mainstream. Perché Paolo? Abbiamo visto questo video, questo video già ci dice tutto, cioè questo video ci spiega perfettamente che cos'è il grande reset e perfettamente che cos'è la distruzione dell'economia di prossimità. L'hanno detto, solo che non riescono e non vogliono e non possono naturalmente dirlo in termini che privilegiano e mettono al centro della discussione gli interessi. Allora loro cosa fanno in questo caso Draghi e l'altro interlocutore? Puntano tutto sui grandi valori, sulla nobiltà della democrazia occidentale che deve sacrificarsi per mantenersi in vita, per mantenersi in vigore. Allora bisogna scegliere tra la pace e il condizionatore, bisogna vaccinarci tutti per proteggere il prossimo, per proteggere i fragili e gli anziani, perché altrimenti li facciamo ammalare, li facciamo morire e li mandiamo in terapia intensiva se non ci vacciniamo. Dunque quelli che non sono vaccinati, cioè che non proteggono gli anziani e che rischiano di farli andare in terapia intensiva dopo che li hanno contagiati, devono essere messi in casa, chiusi in casa, ma per il bene degli anziani. Così come adesso bisogna stare al freddo d'inverno, al caldo insopportabile d'estate, per il bene degli ucraini, per il bene della pace. Tutto questo ce lo vengono a dire coloro i quali hanno profondi interessi, interessi economici, interessi pratici, interessi geopolitici, e non gliene frega nulla dell'ideologia, se non della loro, che è quella dell'esportazione dei loro interessi all'estero, l'incremento dei loro interessi all'estero e la tutela dei loro profitti qui. Ce lo vengono a dire loro, ce lo viene a dire uno come Draghi, che assolutamente è l'ultimo che vuole la salute pubblica, altrimenti non avrebbero agito come hanno agito, è l'ultimo che vuole la pace. Ma figuriamoci se Draghi, Biden e il blocco occidentale vuole la pace. Ce lo dicono in ogni modo che vogliono condurre una guerra, il cui fine è il cambio di regime in Russia. Per cui una nuova guerra per l'esportazione della democrazia occidentale, quando il prodotto naturalmente, come non interessava all'epoca agli afghani, agli iracheni e ai siriani e ai libici, non interessa oggi ai russi, ma noi vogliamo esportarla. Perché? Perché dietro questa parola, democrazia occidentale, si nasconde quello che l'ipocrisia non può, non vuole e non riesce a dirci. Gli interessi, gli interessi economici, gli interessi geopolitici del complesso militare industriale, nel caso della guerra, di Big Pharma nel caso delle vaccinazioni più o meno obbligatorie per tutti, con annesse restrizioni per chi le rifiuta. Questa è la grande ipocrisia. L'ipocrisia sta nell'alto, ma attenzione, sta anche nel basso, sta anche tra i ceti popolari. Perché? Perché moltissime persone, purtroppo, ma non tutte perché ci sono sondaggi molto interessanti che comunque ravvisano il fatto che c'è un disallineamento tra governanti e governati, se fosse un complottista, direi, tra elite e popoli. Cioè, le elite vanno per i fatti loro, i popoli ormai sono disallineati, sono svincolati da quelle che sono le prescrizioni e le ideologie dell'elite. Comunque, detto questo, una parte comunque ancora consistente della popolazione si identifica talmente tanto nel concetto stesso di democrazia occidentale, cioè di oligarchia, di governo delle oligarchie, di governo dei ceti ricchi, dei ceti proprietari e aggiungo dei ceti arroganti, che considera un insulto personale qualunque critica rivolta da un interlocutore magari anche educato nei confronti di quelli che sono le strategie di espansionismo e di repressione del dissenso dei paesi occidentali. Espansionismo all'estero e repressione del dissenso. Noi siamo di fronte a questo tipo di ragionamento, c'è persone che si sono identificate talmente tanto col regime in cui vivono, che considerano un insulto personale il fatto che tu possa porre in discussione o l'essenza, cosa legittima, o determinate politiche di questo regime. Questo è parte dell'ipocrisia generalizzata che sta certamente nel mainstream, il mainstream non fa altro che diffondere ipocrisia, ma anche ignoranza, aggiungo, perché sono ignoranti gli stessi opinion leader che se ne dicano sono i più ignoranti di tutti. Oggi gli intellettuali, come diceva Costanzo Preve, sono molto più stupidi e ignoranti del popolo. Questo è risaputo. Però veicola ignoranza e ipocrisia, ma questa ipocrisia è raccolta anche nel basso, perché comunque noi, inteso come i ceti medi occidentali, abbiamo vissuto così, diciamo pensando che la nostra ricchezza, che il nostro benessere, ecco, diciamo così, fosse stato elargito, fosse un'elargizione gratuita degli americani dopo la Seconda Guerra Mondiale. Attenzione, attenzione, non si può mettere in discussione questa, c'è tutta una fascia sociale. Io direi addirittura che può essere identificata a livello socio-professionale, ma anche demografico, diciamo quelli che hanno vissuto la giovinezza durante gli anni del boom economico, che considerano gli americani benefattori. I benefattori perché gli hanno dato il posto di lavoro, ma certamente che queste cose sono arrivate. Perché? Perché bisognava tenere buona la popolazione in modo che non si rivoltasse e allora bisognava dare reddito, bisognava sovradimensionare anche l'occupazione, bisognava anche creare posti di lavoro più o meno inutili, ma crearli per creare consenso, per legittimare quella che era l'occupazione del paese da parte degli americani dopo il 1945. Oggi queste persone, anche nel momento in cui gli stanno togliendo tutto, cioè chi gli ha dato all'epoca oggi, visto che non c'è più questo rischio di slittamento del paese verso oriente, dopo la fine dell'Unione Sovietica e dopo la fine dei grandi partiti rivoluzionari di massa, ecco, questo rischio non c'è più. Oggi chi ha elargito? chiede il conto, chi è del conto rivuole indietro i prestiti, erano prestiti, non erano regali, ma le persone fanno finta di non capire, cioè sono talmente ideologizzate, hanno talmente introiettato questo modello di pensiero che arrivano al punto di negare l'evidenza, negarsi l'evidenza, dire ma no, ma non è vero, sta per arrivare il razionamento? Ma no, ma figurati, ma non arriverà, ma dai vedrai che non arriverà, e poi quando arriva però, è troppo tardi, come sul Green Pass, ma figurati se lo mettono, mi dicevano tutti quanti, la maggior parte delle persone con cui parlavo, mi dicevano, ma figurati se lo mettono, dopo un mese l'han messo addirittura per lavorare, poi quasi per uscire di casa, e hanno introdotto addirittura il Super Green Pass, che è veramente un crimine di guerra, visto che ci dicono che siamo in guerra, e che ci dicevano che eravamo in guerra anche contro il virus, questa era la retorica, il Super Green Pass è un crimine di guerra, anche il Green Pass ovviamente, ma il Super Green Pass lo è ancora di più, non che l'altro non lo fosse, ma ci sono anche dei livelli, e questo è stato un livello aggiuntivo, dunque chi ci comanda ha commesso dei crimini di guerra, visto che essi stessi hanno detto che siamo in guerra. Io sto dicendo che le persone fanno fatica a capire che siamo sotto un regime di occupazione, perché c'è una identificazione totale, e perché considerano il fatto che gli americani abbiano elargito loro dei benefit come un qualcosa di connesso alla libertà, cioè siamo liberi perché abbiamo ricevuto dei benefit in cambio, benefit che si rivelano, e oggi la dimostrazione è nelle parole di Draghi, provvisori, perché voglio vederle poi queste persone quando staranno al freddo in casa d'inverno o al caldo torrido d'estate e avranno dei problemi, perché il loro sistema immunitario, il loro organismo non è pronto per dormire in casa e vivere, dormire in casa e fredde, e vivere in ambienti dove il caldo è insopportabile, per cui avranno dei problemi. Cosa faranno? Si metteranno ancora le mani sulle orecchie, sugli occhi e sulla bocca come le tre scimmiette piuttosto di non vedere, oppure prenderanno coscienza del fatto di essere stati ingannati per tutti questi anni? Mi ricollego un po' a quello che dici Paolo, pensando ai medici, che sono stati ovviamente i primi, potrei dire propositori un po', sai, da questa parte, all'interno dell'ipocrisia, perché i medici di base, ovviamente anche gli altri, sono stati i principali fautori di questa campagna vaccinale. E ovviamente io ne parlavo con alcuni, che magari sono anche sospesi adesso, che mi dicevano che non è stato facile comunque andare contro a chi ti ha mantenuto per tanti anni, ti ha fatto fare una bella vita, ti pagava le vacanze, ti pagava i ristoranti, ti pagava le conferenze, ti aiutava di qua e ti aiutava di là. Quindi purtroppo è proprio vero quello che hai detto, si sono portati a casa quello che hanno creato. È facile per una persona, mi mantengo sul politically correct, non ne individuo il sesso di appartenenza, ma è facile per una persona lasciare il coniuge che l'ha o lo tradisce, ma che l'ha o lo mantiene nel benessere e anche nell'agiatezza, per tanti anni o che l'ha mantenuto e lo mantiene l'agiatezza per tanti anni. Quelli che hanno mangiato con il sistema e adesso ci ritroviamo di qua invece, ci ritroviamo come rivoluzionari, sono affidabili. Guarda, questo è naturalmente un dubbio che viene a chiunque, però il fatto è che queste persone che oggi continuano a far finta di non vedere sono comunque presenti nella società italiana e sono tantissime, perché è quasi una superstizione ormai affidarsi a un padrone. Il subalterno che si affida a un padrone lo fa quasi come chi cerca di affidarsi a un talismano, ma oggi gli stessi standard di vita veicolati e prescritti dai padroni sono diventati delle superstizioni e così sono interiorizzate e interpretate. Ma io faccio un esempio banale, ma che credo che tutti noi abbiamo sotto gli occhi. Abbiamo, almeno dove vivo io, ci sono circa 35 gradi, ma penso che tutta l'Italia sia in questa condizione attualmente, 30-35 gradi. Sole, molto sole, caldo, bene, persone che vanno ancora in giro per strada a queste condizioni climatiche con la mascherina FFP2 pesantissima tirata su fino agli occhi, persone anche anziane. Ma io dico, ma se questi sono i fragili, se questi sono i fragili, ma beata la fragilità, perché questi non sono fragili. Se io, che ho 40 anni e sono sano, portassi la mascherina FFP2 in strada, dopo 5 minuti, già solo il pensiero mi dà fastidio, ma dopo 5 minuti svenirei, collasserei, con la fame d'aria. Ma perché la rifiuti psicologicamente e allora anche fisicamente la rifiuti, credono che li faccia bene e quindi la vedono come... Abbiamo anche un corpo, cioè il corpo si rifiuta, cioè i polmoni, che sono tra l'altro anche un importante fattore di così, un fattore che interiorizza anche molto, il polmone metabolizza molto anche lo stress, gli stati d'animo, eccetera, cioè i polmoni sono un qualcosa che non solo di fisico, c'è anche dell'altro nei polmoni, ma si rifiutano chiaramente di respirare la propria anidride carbonica tutto il giorno, ma poi a queste condizioni, dico, a questi qua se li piglia il covid gli fa un baffo, perché se riescono a sostenere la mascherina FFP2 all'aperto, al caldo, con condizioni di questo tipo, figuriamoci il covid cosa può farli, cioè se non muoiono per dispnea respiratoria, per asfissia, per portare questa cosa, però, ripeto, è superstizione, cioè ad esempio se io mi metto la mascherina al supermercato o in un negozio e poi torno a casa e vivo con una persona che la mascherina non se l'è mai messa e fa la sua vita sociale e poi torna in casa e con questa persona non tengo la mascherina perché mi fido, cioè ma io sto dicendo, ma io raccolgo testimonianze di questo tipo per capire la psicologia delle persone, cioè perché io devo continuare a tenere la mascherina al supermercato nei negozi se poi vivo in casa con gente che non la porta, non l'ha mai portata perché quella gente con cui vivo in casa e non ce l'ha la considero non infetta mentre invece nei negozi nei supermercati penso che ci sia un'infezione allora mi maschero, mi copro, cioè dal punto di vista strettamente scientifico il nesso causale dove sta? Cioè qua hanno distrutto la logica, hanno veramente distrutto il concetto di logica di nesso causale cioè non può esistere il fatto che in ascensore debba mettere la mascherina da solo perché lì c'è stato uno prima che magari ha respirato, ha tossito eccetera e poi vado con i miei amici e lì non la tengo perché di loro mi fido ma cosa vuol dire? Se c'è un'infezione respiratoria cosa fa? Non infetta gli amici perché tu ti fidi di loro allora con loro è più... O i dipendenti sì e i clienti no o i bambini che a sei anni automaticamente devono mettersi la mascherina fino a un giorno prima quindi magari sono dieci su duecento hai capito? Cioè purtroppo abbiamo assistito a questo noi abbiamo visto guarda Paolo che la mascherina fa male alla salute il gel sulle mani fa male alla salute cioè tutte le indicazioni che loro ci davano in realtà erano per indebolire il sistema immunitario perché lato scientifico qualsiasi medico che parla in scienza è coscienza non può dirti diversamente da questa teoria perché fa tutto male quello che ci hanno detto di fare all'inizio i guanti ma ancora adesso non c'è niente di più schifoso dei guanti i guanti i guanti sono un ricettacolo di microbi di batteri e di virus e noi tocchiamo la cosa con i guanti poi ci tocchiamo e se lo facciamo con le mani sulle mani c'è il cosiddetto microbiota che ci ci protegge dalle infezioni il nostro corpo è fatto con un sistema immunitario che è performante se sei sano se ti mantieni sano è performante il sistema immunitario combatte i virus poi noi siamo fatti di virus ma i guanti non ce l'hanno il microbiota te lo pigli subito eppure ci dicevano di andare in giro con i guanti con i guanti di lattici che tra l'altro fanno malissimo anche alla pelle e tutto il resto il distanziamento la mascherina non parliamo nella FFP2 obbligatoria sui mezzi di trasporto quando ci sono delle persone che si vede benissimo sui mezzi di trasporto che non ce la fanno sui mezzi di trasporto pubblici sudano completamente ma non la tolgono eh non la tolgono il mix mascherina più occhiali da vista questi occhiali completamente appannati con la mascherina che non ci vedono neanche che sbattono cioè i non visti più di una volta e sui sui mezzi pubblici ormai tu puoi fare puoi fare qualunque cosa ci puoi anche prendere a testate il tuo il tuo vicino l'importante è che tu abbia la mascherina cioè al controllore ne frega solo che tu abbia la mascherina e tempo fa io suppongo perché anche il green pass ecco e però questo è il fatto che hanno distrutto la logica e la distruzione della logica la distruzione del nesso causale crea distruzione dell'autonomia della coscienza cioè la persona perdono coscienza perché se tu vivi di superstizione ah mi metto il talismano in tasca lo strofino ogni tanto e mi porterà fortuna non avrò incidenti non avrò disgrazie nella vita ecco se tu vivi di questo tipo di superstizioni tra l'altro hanno anche sostituito la fede religiosa da prima adesso sostituiscono anche la logica ma sarai sempre subalterno perché dovrai sempre dire grazie a chi ti ha propinato il talismano oggi il talismano è la mascherina o il vaccino il vaccino anche si fa per vabbè lo hanno fatto per andare in discoteca poi gli hanno chiuso le discoteche l'hanno fatto per andare in vacanza che è veramente un prezzo molto alto piuttosto me ne sto a casa e faccio le vacanze nel bosco dietro casa piuttosto che farmi iniettare quella roba lì un prezzo per 15 giorni di vacanza rischiare la pelle è un prezzo veramente troppo alto chi l'ha pagato del fegato tra virgolette o incosciente ma questo la storia lo giudicherà poi c'è gente che l'ha fatto per andare in palestra c'è gente che l'ha fatto per andare al cinema al ristorante e poi persone che sono state costrette perché altrimenti non potevano più lavorare però anche in quel caso lì è stato vissuto come un talismano perché c'è gente che si è fatta tre dosi e poi comunque ha continuato io che ha fatto tre dosi ma ha continuato a non credere all'efficacia di questi vaccini e allora perché ti fai tre dosi è perché così sto più tranquillo ma allora è una questione psicologica è una questione ripeto di superstizione come aspettare che passi un altro per strada perché ha attraversato il gatto nero io mi fermo aspetto che passi un altro così la sfiga se la becca lui e poi passo io ma siamo veramente a quel punto lì c'è la scienza è umiliata se io fossi uno scienziato un medico mi sentirei umiliato e svilito nel momento in cui si vedono comportamenti del genere cioè mi faccio vaccinare e così sto più tranquillo ma che cazzo vuol dire sto più tranquillo prenditi un ansiolitico per star più tranquillo una valeriana lo faceva il mainstream lo dicevano in diretta e capito su programmi importanti mi sono vaccinato mi sento benissimo adesso mi credo chi è che lo diceva ma non voglio neanche fare il nome erano loro i primi nel medioevo non so c'erano quelle persone sembrano un po' strane che parlavano nei vicoletti e convincevano le persone perché c'era tanta ignoranza adesso le abbiamo in televisione quelle persone lì cioè è criminale il lavoro che hanno fatto sulle menti poi è ovvio che le persone più debole ci cascano pensano davvero che sia un amuleto cioè che sono vaccinati non prendono più qualsiasi malattia poi si ammalano e ci restano male ovviamente ma poi guarda sempre testimonianze che ho raccolto una persona l'altro giorno mi fa sì io ho fatto due dosi e poi ho preso il covid forte e però sono contento di essermi vaccinato perché se non l'avessi fatto l'avrei preso ancora più forte non gli è venuto il dubbio che il vaccino non l'abbia protetto cioè che lui avrebbe preso l'influenza allo stesso modo sia vaccinato che non cioè il dubbio minimo che il vaccino sia stato nei suoi confronti come bere un bicchiere d'acqua fresca no? o una tisana non non l'ha sfiorato non l'ha sfiorato lui ha pensato che se avesse preso la malattia da non vaccinato sarebbe morto che il vaccino gli ha ridotto la sintomatologia e anche la gravità la carica virale dell'infezione non gli ha sfiorato il dubbio forse se non lo facevo e lo prendevo era la stessa cosa per cui abbiamo questo tipo di fideismo sulla sulla questione del rapporto dei rapporti internazionali tra l'altro io sono stato uno tra i primi a parlare di Nato dei vaccini perché pensare che la questione della Nato e la questione dei vaccini siano disgiunte e secondo me è sbagliato secondo me sono congiunte cioè l'interesse che abbiamo avuto che abbiamo e che dovremmo avere in una campagna politica che induce le persone che cerca di argomentare e di non mi vergogno di utilizzare questo termine convincere le persone a non credere a tutto quello che il mainstream gli dice in fatto di comportamenti da tenere in situazioni pseudo pandemiche non può prescindere dalla critica nei confronti della Nato e dall'interesse nei confronti di questa critica perché senza la Nato noi non avremmo avuto questo tipo di campagna vaccinale istituita e promulgata e attuata in questo modo cioè con dei metodi che vanno nella violenza privata nella repressione nella patologizzazione e criminalizzazione del dissenso e quasi fino a considerare anzi sì considerare senza quasi dei delinquenti coloro i quali si sono astenuti da una chiamata alle armi remitenti delinquenti eccetera la questione della Nato è congiunta pensate che già nell'aprile del 2021 Joe Biden quello che oggi vuole la guerra infinita in Ucraina contro la Russia per interposto Ucraina parlò di Nato dei vaccini non l'ho detto io l'ha detto Joe Biden io ho raccolto questa sua dichiarazione ho detto attenzione la Nato e i vaccini in questo caso sono collegati senza l'uno non c'è l'altro infatti guarda caso anche nel percorso nel processo di approvazione dei vaccini hanno approvato solo i vaccini provenienti dalle case farmaceutiche private degli Stati Uniti d'America e solo quelli RNA messaggero quella roba lì per cui attenzione le due cose sono collegate questo è molto importante noi non dobbiamo prescindere dall'una o dall'altra cosa per cercare di demistificare la propaganda e l'ipocrisia del mainstream però io noto questo che sui vaccini sulla questione vaccinale c'è stata comunque un'adesione da parte della maggioranza della popolazione alla campagna mediatica su questo non c'è dubbio sentivo veramente gente quando andavo a correre sentivo gente per strada che dicevo sti merdosi di non vaccinati dovrebbero eliminarli tutti purtroppo gli consentono ancora di andarsi a comprare il pane come dire lo spuso sulla macchina Paolo lo spuso sulla macchina sì ma ho visto di tutte anche io purtroppo invece su questa questione qua della guerra c'è più come dire un po' più di malizia sono un po' più scafate le persone tant'è vero che ci sono dei sondaggi che indicano come il 70% degli italiani sia consapevole del fatto che questo è un paese satellite che è il paese in cui vive un paese satellite degli Stati Uniti ecco questo non è un dato trascurabile soltanto il 6,8% degli italiani cito un sondaggio di termometro politico poi certo i sondaggi del mainstream lasciano il tempo che trovano ma questo dà dei numeri schiaccianti delle evidenze schiaccianti per cui è difficile dire che non sia reale ecco il 6,8% italiani vorrebbe rafforzare ulteriormente i legami già peraltro soffocanti tra l'Italia e gli Stati Uniti pensa un po' il il mainstream è collegato sulle frequenze del 6,8% degli italiani perché il mainstream naturalmente esulta quando i rapporti tra i paesi il paese satellite e la superpotenza si consolidano cioè quando la superpotenza stringe ancora di più il cappio attorno al collo del paese satellite c'è un profluvio di esultanza nel mainstream un'enfasi adesso vedete uh che bello la Finlandia e la Svezia entrano nella Nato li accoglieremo a braccia aperte e non vediamo l'ora dicono Draghi e i suoi e i suoi lacche però il mainstream è completamente scollegato dalla stragrande maggioranza degli italiani che invece tutto questo non vuole non vuole continuare con la guerra considera gli Stati Uniti un paese che ha di fatto eh posto una un'ipoteca coloniale sull'Italia e in più eh vorrebbero mantenere la maggioranza del popolo italiano vorrebbe mantenere e ripristinare legami e eh rapporti commerciali e eh economici e anche di partenariato culturale con la Russia per cui c'è un disallineamento totale appunto tra il mainstream che eh continua a ripetere e a veicolare senza sosta la propaganda della Nato e quella che è l'opinione pubblica da questo punto di vista non hanno fatto breccia nell'opinione pubblica con la loro propaganda mentre invece sul tema della campagna vaccinale perché toccava di più proprio la vita pratica delle persone ecco da questo punto di vista eh c'era stata eh era riuscita meglio poi naturalmente c'è stata una una eroica resistenza da parte della di una di un settore importantissimo di popolazione che per molti aspetti ha contribuito al rallentamento di di questa campagna che stava travolgendo tutto no? Gli over 50 sono stati determinanti nel nel mettere in sordina nel far passare eh un attimo sottotraccia questa cosa dell'istituzione del vaccino obbligatorio per tutti e questo e questo è molto importante detto questo eh sulla guerra e sui rapporti internazionali c'è una sensibilità che pare diversa ora mi auguro che si riesca a tradurre questa sensibilità diffusa che dunque esiste è reale non è inventata in un'azione politica concreta tendente a costruire l'egemonia anche culturale in questo paese perché finché l'egemonia o meglio il dominio è in mano al mainstream che è collegato sulle frequenze del 6,8% degli italiani e scollegato da quella del restante 90% e oltre beh direi che poi è inutile andare a esportare la democrazia all'estero perché questo disallineamento è la riprova che la democrazia non c'è manco qui il problema è l'assenza di reazione di quel 92% perché è vero che hanno dei follower però hanno anche persone sono degli ignavi probabilmente che lasciano correre noi lottiamo facciamo però la stragrande maggioranza della popolazione non gliene frega niente forse se si lascia trasportare e via diciamo che considera una parte importante diciamo di questo 70% che è comunque consapevole del fatto che l'Italia sia un paese satellite e che questa subalternità non possa portare nulla di buono all'Italia perché noi avremmo un razionamento molto probabilmente come ci è stato detto nel video iniziale che hai mostrato quest'autunno quest'inverno dunque staremo al freddo ma negli Stati Uniti non staranno al freddo cioè questo bisogna mettercelo in testa gli interessi italiani gli interessi statunitensi divergono più loro ci guadagnano più noi ci impoveriamo detto questo molte persone pur essendo consapevoli di ciò continuano a dire beh ma in fin dei conti è inevitabile perché i rapporti di forza sono questi non li si possono cambiare oppure continuano a dire beh ma io sono sempre stato bene mi hanno sempre dato lo stipendio e vado avanti così e poi a me piace obbedire cioè io sono consapevole del fatto che siamo un paese sdraiato ma piace essere sdraiato anche a me per cui sì ci sono molte contraddizioni anche all'interno di chi naturalmente esprime un'opinione un'opinione dissidente o comunque non allineata al mainstream questo va tenuto presente detto questo le condizioni per una rinascita anche politica culturale spirituale ed economica del paese le stiamo gettando noi le stiamo creando noi chi può rompere questi rapporti che ci delegano agli Stati Uniti dagli Stati Uniti a quei poteri che poi sono negli Stati Uniti e sono in Inghilterra da tanti anni Putin potrebbe farlo? sì ci stavo pensando adesso la Russia naturalmente può farlo per questo la Russia è sotto attacco questa contro la Russia è una guerra in primis ideologica non è soltanto una guerra territoriale è anche una guerra territoriale geopolitica nasce come una piccola guerra geopolitica un po' più grande di quella che c'è stata in Georgia nel 2008 ma viene subito reinterpretata come una guerra ideologica la dimensione territoriale geopolitica assume subito nei toni della propaganda di guerra un fattore secondario il fattore invece primario prevalente è assunto dalla dimensione ideologica della guerra cioè questa guerra non deve concludersi con un trattato di pace o con un armistizio come ad esempio le guerre novecentesche o quella di Corea le guerre ottocentesche novecentesche e quella di Corea del 1954 bensì con la sconfitta totale del pensiero e del mondo russo cioè dell'ideologia antiglobalista mondo e pensiero russo intesi come ideologia antiglobalista cioè l'idea forte chiamiamola così l'idea imperialistica di Biden e della Nato non è quella di arrivare ad una ad una pace anche così non troppo vantaggiosa per i russi è proprio quella di annientare qualunque tipo di prospettiva antiglobalista in Europa da qualunque parte provenga attenzione questo è importante guardate che c'è una guerra contro l'antiglobalismo cioè contro il pensiero critico anche all'interno dei paesi dell'Unione Europea dopo la Brexit dopo il fenomeno Trump dopo il fenomeno Le Pen e altri ancora che sono comunque episodi che stanno con una gamba dentro con una gamba fuori dal sistema un piede dentro con un piede fuori dal sistema e non è che siano però hanno comunque scalfito questa egemonia liberal globalista questo va detto sono state delle anomalie dunque è cominciata anche in quel senso lì una guerra contro l'antiglobalismo cioè contro il pensiero critico dentro i confini dell'Unione Europea dentro i confini degli Stati Uniti e questa guerra oggi viene riprodotta e viene estesa alla Russia perché la Russia è considerata la centrale dell'antiglobalismo nel mondo cioè l'ultimo ostacolo l'ultima barriera che si frappone tra la distruzione totale di tutte quelle che sono le tradizioni storiche spirituali identitarie dei popoli e l'economia di prossimità e il grande reset la Russia è l'ultima barriera che fa argine al grande reset e questo è ciò che loro identificano nella guerra contro la Russia loro vogliono una guerra ideologica per portare a termine il grande reset vedono che la Russia è l'ostacolo e loro dicono rimuoviamo l'ostacolo così completeremo il grande reset Ti devo questa notizia Paolo sono sicuro che ti è già arrivata è quella che riguarda il progetto Pollicino a Bologna praticamente con la scusa della sostenibilità e sulla falsa riga del progetto del portafoglio del cittadino virtuoso e prima ancora di Green Pass nel capologo dell'Emilia Romagna la giunta PD lancia il progetto Pollicino si tratta di un'applicazione a scaricare sul proprio telefono e che per due settimane te racconto registrerà in un archivio gli spostamenti dei cittadini bolognesi in modalità anonima il nome simpatico data l'iniziativa deriva dal soprannome che gli angolo sassoni danno ai dati mobilità i classici bread crump termine che appunto significa briciole di pane il progetto prevede per chi lascerà a seguire il comune le proprie briciole dei premi minuti gratis con le app di car sharing buoni sconti librerie e negozi come NaturaSea un'esperienza sportiva gratuita della Decathlon e altro che utilizzerà per almeno 7 giorni l'applicazione e comunicherà nel diario dove va con quale mezzo completando il diario e rispondendo ai questionari riceverà le sue ricompense quale sarà la percentuale dei cittadini che accetterà o che andrà a fare questo beh gli elettori del PD i militanti del PD si sottoporranno all'esperimento secondo me beh ma in determinati paesi adesso non so se ricordo bene ma per la questione vaccinale era stata offerta addirittura una notte da trascorrere nei night club o nei bordelli laddove sono legalizzati in cambio del vaccino cioè ti vaccini e avrai una notte gratis con una prostituta in un bordello legalizzato per cui se non è un sistema di credito sociale questo grottesco naturalmente ma 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 qual è noi stiamo adeguandoci c'è una parte del sempre del ceto politico si sta adeguando e stanzi cavalcando l'onda poi io credo che molto sia anche dettato dalla moda contingente la moda contingente è quella di controllare tutti gli spostamenti e ogni singolo aspetto della vita privata delle persone poi naturalmente tutto questo si affianca al fatto che i diritti cosmetici debbano prevalere su tutto tu puoi essere quello che vuoi domani puoi sentirti donna dopo domani di nuovo uomo io ti devo trattare domani da donna se tu ti senti donna poi dopo domani da uomo se ti senti uomo tra tre giorni se ti senti cane io ti devo trattare da cane poi da gatto da topo da leone da tigre viceversa e via dicendo però allo stesso tempo devo sapere esattamente tutti i tuoi spostamenti devo sapere dove spendi perché si crea l'illusione nelle persone di essere liberi tu ti senti libero se io ti tratto secondo quali che sono i tuoi desiderati del momento vuoi essere un alpinista io ti tratto da alpinista vuoi essere una mucca io ti tratto da mucca però nello stesso tempo questa illusione perché naturalmente è un'illusione di libertà tu sei un uomo sei Riccardo Rocchesso e tale rimarrai per tutta la vita non diventerai mai una donna o un alpinista ecco un alpinista puoi diventarlo una donna o una mucca ecco però a parte questo questa è un'illusione di libertà io ti illudo di poter essere quello che tu vuoi ma nel contempo io registro dettagliatamente tutto ciò che tu fai tutti i tuoi spostimenti tutte le tue spese tutte le tue opinioni e ogni tua ogni tuo singolo movimento su un registro che poi utilizzo per promuovere attività di marketing o per controllarti o per anche ricattarti nel momento in cui tu ti comporti o o appari ai miei occhi come un antagonista del sistema che io controllo quanta verità Paolo direi che per oggi è tutto puntata da condividere mi raccomando noi ci vediamo domani mattina alle 8 per la segna stampa invece con Pedro Morano ciao a tutti ragazzi grazie ancora Paolo grazie a te grazie a tutti voi chiudiamo con questa chicca non l'ho messa prima chiudiamo con questa so che ti piacerà ciao ragazzi ora in corso e si continua a morire per questa terribile pandemia in questi due anni si sono spesi dieci volte in più di soldi per le armi e non per i vaccini e per non vaccinare in tutto il mondo quale ruolo vuole giocare l'Italia noi dobbiamo giocare il ruolo di chi impone questa trattativa perché essere contro la guerra e sconfiggere la logica di Putin vuol dire affermare la pace vuol dire affermare le armi vuol dire affermare un nuovo ordine mondiale vuol dire affermare un nuovo ordine mondiale ed è questa la battaglia che credo noi dobbiamo fare